Ciao Ciao Grazie Prego Ciao Amazing Oggi però c'è stato veramente adrenalinico, veramente emozionante perché ho provato e ho fatto una cosa nuova che fino a 34 anni non avevo mai fatto per cui è stato molto bello e ho parlato un po' di San Francisco e ho ricordato di come avevamo tre australiani e che non ero felice con la CUP quando ci ha giocato ma è stato molto divertente e è un ragazzo non conoscendolo prima in maniera diretta se non attraverso le televisioni e averlo conosciuto oggi per 3-4 minuti 10 minuti quello che sono stati devo dire che tanto di cappello i campioni si vedono anche e soprattutto in queste situazioni questo è fantastico quando hai l'associazione con Puma che si è potuta nuova e aprire questo a tutti gli atleti all'interno e per prendere il capitano dell'italiano che è uno dei ragazzi più iconici in Italia è un vero e un vero è un vero siamo uniti da da una cosa molto importante il nostro legame con la Puma e credo che questo sia sia determinante e poi alla fine insomma quando si parla di sport e si parla di campioni io penso che sia bello avere la possibilità di conoscere tutti indistintamente che ci sono grazie grazie che cosa è interessante ci sono dei pati quando ci sono persone e potremo e potremmo e potremmo e potremmo e potremmo e potremmo di capire i capire i invitati a San Francisco e credo che sarà considerata se vogliamo venire San Francisco, and then you'll see what the boat is like. Ok. Ok. For a win, then we'll really scare you. Ok. See you all. See you soon. Definitely. The life is long for us. So, 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 so. Good luck, eh? Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.